Marcia indietro della regione sulla sanità. Il tavolo di monitoraggio del Ministero della Salute, un tavolo non politico ma composto da tecnici, ha ritenuto illegittimo il provvedimento abruzzese che avvantaggiava le cliniche private. Si stavano eliminando, erano state eliminate le regole imposte all'Abruzzo dopo lo scandalo di Sanitopoli. Fortunatamente il tavolo di monitoraggio del Ministero, che è un tavolo tecnico, ha rilevato le nostre medesime criticità e la Giunta regionale dell'Abruzzo nei giorni scorsi ha dovuto procedere a una marcia indietro. L'iniziativa della Giunta regionale prevedeva che non ci fossero più obblighi per le cliniche private di fornire i dati giornalieri sui ricoveri e le dimissioni dei pazienti. Inoltre era consentita un'oscillabilità del fatturato del 20% senza che vi fossero motivazioni specifiche. Se ne educano alcune cose. Primo che la politica abruzzese continua a essere sulla sanità omertosa e complice dei privati, priva di trasparenza. Il provvedimento della regione passò allora nel silenzio generale di maggioranze e opposizioni. Lo stesso silenzio di oggi attorno alla decisione del tavolo di monitoraggio. Adesso continueremo a vigilare perché gli scandali del passato ci insegnano che solo con un quadro di regole e controlli si evita uno spreco di denaro pubblico e soprattutto poi taglia la sanità pubblica assolutamente ingiustificati.